Da oggi perché lo annunciamo, ma già da qualche tempo, la Fondazione Comunista e Maurizia Cerbo hanno guardato, sono confrontati con il nostro progetto, con Coalizione Civica, hanno trovato in questo progetto molte delle cose su cui si sono battuti per anni, una condivisione sul programma che punta all'ambiente e ai diritti sociali, una condivisione sul metodo che punta a sostituire le politiche clienterali con un progetto invece che consente di realizzare questi obiettivi. Quindi noi siamo contenti, l'avevamo detto fin dall'inizio, le forze politiche che rinunciassero ai loro simboli e riconoscessero in questo progetto di Coalizione Civica un'opportunità per far avanzare i diritti e la tutela dell'ambiente erano benvenuti. Rifondazione quindi è benvenuta. Maurizia Cerbo, come mai la decisione di appoggiare Coalizione Civica? Ma in realtà noi proponiamo coalizioni civiche in molte città italiane, voglio ricordare che a Padova Coalizione Civica da noi promossa ha preso il 25% dei voti ed è quello che auspico a Pescara. Voglio ricordare che governiamo a Napoli con De Magistris, con una coalizione simile conquistammo Palermo a suo tempo senza DPD né centrodestra e ci sono tantissime altre esperienze di questo genere. Quindi in tutta Italia ci è sembrato positivo quando è venuta fuori questa proposta anche in città perché era in sottoria con quello che pensiamo che si debba fare, cioè unire tutta la cittadinanza che si ritrova sui valori della Costituzione, su una idea quindi di diritti sociali, democrazia, antirazzismo, al tempo stesso una grande sensibilità ambientale. Quindi ritrovarci insieme ad altri cittadini che come noi difendono il verde e sono per il consumo di suolo zero, che come noi pensano che bisogna smettere di costruire sopra la spiaggia anzi che va ridotta l'antropizzazione, che come noi pensano che un servizio essenziale come l'acqua debba essere pubblico come voleva il referendum e non gestito come è stato gestito negli ultimi vent'anni e solo noi possiamo parlare di questa realtà perché tutti sono stati complici del cosiddetto partito dell'acqua, sono cose che ci uniscono, ci unisce come sapete le battaglie per una mobilità sostenibile. Poi ovviamente c'è anche un pluralismo di opinioni ma se c'è un comune obiettivo la discussione aiuta a trovare le soluzioni migliori. Il problema invece è quando la politica viene sostituita dalla rappresentanza di interessi particolaristici o peggio ancora di affari che si fanno sotto banco a spese della comunità. Per cui con coalizione civica noi ci sentiamo a casa, ci sono i nostri compagni e compagni candidati in lista, c'è il massimo sostegno e credo che la cittadinanza debba dare forza a questa proposta politico-amministrativa che è diversa da tutte le altre.